Dai Gianni, che tardi? Che è successo? Dai Gianni, a posto, a posto. Sei bene? Pronto? Pronto, 118? Sì, sì, c'è una persona che non si sente bene. Pronto? Papà? No Luca, non sono papà, sono Concetto. No, Concetto, dimmi un po'. Vieni subito, che papà non ti sente bene, non ci hai chiamato il 118. Papà sta male, ma che sta dicendo? Arrivo subito, dammi due minuti. Arrivo subito, sì. No, non ci hai chiamato. No, non ci hai chiamato il 119. 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 Grazie a tutti.